Mattia Voloti, ripartiamo dalla importante vittoria con il Benevento, contavano i tre punti, i tre punti sono arrivati. Sì, era una vittoria troppo fondamentale da ottenere contro una squadra che voleva far bene, voleva comunque uscire da questi risultati negativi che avevano comunque ancora zero punti e noi volevamo dargli una bella botta anche psicologica e portare a casa questi tre punti che anche per noi erano vitali e siamo riusciti a ottenere una vittoria anche con qualche difficoltà, però è una vittoria troppo fondamentale che ci permette di salire a cota 6. Una vittoria fondamentale che arriva dopo l'ottimo risultato di Torino, adesso che il Verona sta imparando, diciamo così la Serie A, bisogna anche tenere la continuità. Sì, sì, dobbiamo comunque tenerci questi due risultati utili perché il pareggio di Torino è un risultato molto importante, questa vittoria lo è ancora di più e quindi questi due risultati devono darci la consapevolezza che questa squadra se la può giocare contro tutte. Ora abbiamo una partita fondamentale che è il derby contro il Chievo e dobbiamo dar continuità ai risultati, che è una partita che comunque ci può dare anche psicologicamente ancora più forza e ancora più convinti che possiamo giocarcela anche quelle dopo con l'Atalanta e l'Inter. È comunque il derby e non si può definire una partita come le altre? No, no, infatti il derby è una partita a sé, il derby va giocato, il derby non è detto che chi è più dietro in classifica non lo vinca, quindi avendo anche sei punti in meno rispetto al Chievo possiamo giocarcela e sappiamo che possiamo entrare in campo con la forza e la voglia di poter portare a casa i tre punti e dobbiamo provarci a fare. Ecco, al di là delle qualità tecniche, che qualità serviranno al Verona più morali per portare a casa questa partita? Sì, sappiamo che il derby bisogna dare sempre qualcosa in più, come tutte le partite però il derby è una partita a sé, il derby è una partita che ti dà tantissime emozioni, come quello dell'anno scorso contro il Vicenza che è stato fondamentale per noi per la promozione e anche questo con il Chievo sappiamo che è di vitale importanza. Arriviamo in un momento positivo perché arriviamo da due risultati utili e quindi questo ci deve dare la forza di affrontare il derby in maniera positiva. Ultima domanda, tornando a Mattia Valotti, in queste otto giornate trascorse abbiamo visto una crescita costante, da parte tua manca solo il gol, ci sei andato vicino contro il Benevento, ce l'hai lì buono? Sì, sono contento di essere entrato in campo in tutte le otto partite, sto bene anche fisicamente, sto crescendo molto a livello anche di ritmo e nell'affrontare la gara. Manca il gol e purtroppo ci sono andato vicino in parecchie occasioni già con la Sampdoria e l'altra volta con un paio di occasioni. Spero di ottenere più presto possibile questa gioia perché sarebbe il coronamento di un sogno che sto vivendo in Serie A.